Buongiorno a tutti e bentornati nel mondo di naturale italiano. Io mi chiamo Jennifer e oggi voglio parlarvi di un ortaggio tipicamente estivo, la melanzana. Tra le tante varietà presenti sul mercato c'è la melanzana mignon, ed è proprio lei la nostra protagonista di oggi, la regina dell'estate. Si tratta di un prodotto nuovo, nato per merito di una serie di incroci completamente naturali. Questi ortaggi speciali sono infatti liberi da OGM. La melanzana mignon è amica della nostra salute ed è anche amica dell'ambiente. La perla del sud Italia, così viene chiamata, pesa in miena 35 grammi ed è lunga circa 15 centimetri. Oltre ad essere così piccola, ha una buccia sottile che può essere mantenuta durante la cottura e una polpa pressoché priva di semi. Per questo motivo potete cucinarla e gustarla intera. Questa melanzana ha un gusto dolce e gradevole ed è priva di quel sapore amarognolo che caratterizza la melanzana tradizionale, perciò basta metterla sotto sale prima della cottura. Una melanzana tutta polpa e niente semi, dal colore viola brillante, dalla buccia sottile e dalle piccole dimensioni. Queste caratteristiche ne donano una grande versatilità in cucina, uno dei suoi punti di forza. Potete assaporarla intera e fritta è una vera delizia perché la sua polpa soda assorbe poco olio. Come le dimensioni, anche i tempi di cottura sono ridotti. Alla griglia è pronto in 15 minuti e al forno ne bastano 10. Cos'altro dire davanti a questo piccolo gioiello dell'antura? Impossibile non rimanere affascinati da tanta bellezza. Il suo codice promo è 803049. Per maggiori informazioni vi invito a leggere la newsletter. Ciao!